Dopo la mare, mi ha venuto all'anghe, senti che mi sono venuti 120 volte all'anghe. Senti 12. Senti 12. Senti 12. E allora io, dal momento che voi stessi lasciatate, così tante volte, cosa dico? Non mi sono venuto nel Consiglio Comunale, e qui ti vede a un'altra sala dove vengono la giudizia al consigliare. E mi dico che la chiesa è casa vostra, ma non mi vengono a che la chiesa è sempre un bel da per voi, per cosa non sappiamo se non è già un manzo al gareso, anzi già un manzo catalano, per cosa teniamo la stessa identità culturale, parliamo la stessa lingua, no? E quindi è un momento di orgoglio, di orgoglio e di soddisfazione. E ringrazieci Tonino che mi ha chiesto e mi ha interessato anche tra voi, che è una chiesa sala, che è la sala bella della nostra città. E allora di nuovo tanti avuti, quanti vedi anche chi sappi che chiesa è casa vostra. Grazie. Giuseppe Tognolo, che fa riferimento all'Università Cattolica di Milano, Tonino è il rappresentante, il referente qui a D'Alghero, ed è un riconoscimento che appunto si ispira al pensiero di Giuseppe Tognolo ed è dedicato a chi si prodiga, a chi si impegna per diffondere la cultura e le tradizioni popolari locali. Per cui è un riconoscimento estremamente importante, che lega la vostra azione trascorsa a importanti passi avanti fatti all'Aughero per la conservazione, come dicevamo prima, delle nostre tradizioni, della nostra storia e soprattutto della nostra lingua. Perciò credo che questa benvenenza... Andiamo insieme, quindi, a ripetere, dal Presidente del Consiglio Comunale, dalla fondazione e dalla rappresentanza del Sindaco, che vi saluta, ma stavo dimenticando. Grazie, grazie. Grazie. Applausi. Grazie.